In tutto il mondo il 25 novembre si celebra una giornata simbolo in cui ci si confronta su quella che oggi è una vera e propria emergenza sociale. Nella città di Fanno l'amministrazione comunale prosegue l'impegno contro questo fenomeno che non accenna a diminuire sia a livello nazionale che locale. Nelle Marche nell'ultimo anno sono state oltre 400 le donne che hanno denunciato quasi 900 violenze, per la maggior parte compiute all'interno di pareti domestiche. Ad abusare di loro conviventi, mariti o ex mariti. Si tratta di uomini in particolare di età compresa fra i 34 e i 53 anni, di nazionalità italiana, di istruzione media o superiore e occupati. Nel centro antiviolenza di Pesaro sono state assistite 110 donne, un terzo delle quali residenti nella città della Fortuna. Per ampliare la consapevolezza su questo tema e con l'obiettivo di rieducare le nuove generazioni e la cultura di rispetto, l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fanno e la conferenza permanente delle donne elette hanno organizzato tre iniziative in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ci sarà la mattina del 25 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna un appuntamento spettacolo rivolto agli studenti, con un momento di informazione e di capacitazione rispetto alla situazione nazionale e locale e soprattutto un momento di spettacolo che si intitola Non ci resta che ridere amaramente tratto da un lavoro di Serena Dandini riadattato dalla compagnia dei fani giulesi in collaborazione con la provincia di Pesaro e il centro antiviolenza. Nella stessa giornata alle ore 18.30 si svolgerà un consiglio comunale monotematico aperto alla cittadinanza in cui è stato inserito un ordine del giorno che impegna l'amministrazione e la regione Marche a tenere un'attenzione alta sul problema e allo stesso tempo continuare a finanziare i centri antiviolenza che rischiano di essere chiusi. Inviteremo in questo consiglio comunale diverse rappresentanze e testimonianze dell'associazionismo locale e quindi chi lavora dal punto di vista legale, della tutela legale, sia chi lavora dal punto di vista della tutela lavorativa delle donne, ma anche nel problema della tratta e della prostituzione e anche dal punto di vista proprio della cura e presi in carico del centro antiviolenza. Il terzo appuntamento è previsto invece per la serata del 26 novembre al Cinema Politeama di Fano dove alle 21.15 verrà proiettato un documentario dal titolo 1,2 di Silvia Ferrari ad un costo di 3 euro. Seguirà un dibattito sul tema dell'emarginazione femminile negli ambienti di lavoro e sul mobbing in merito alla maternità e alla scarsa natalità in Italia. Questa è un'iniziativa fatta in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e sarà presente anche la consigliera delle pari opportunità Paola Petrucci. Invitiamo tutte le donne e gli uomini ad essere presenti.